Hanno fatto di tutto per tenere in piedi la storica sede Lilt di Piazza Italia, l'hanno ripulita dopo la devastazione, dopo gli insulti e le aggressioni, ma non è bastato, punto e a capo, occupata per l'ennesima volta da chi, quell'area in cui sorge il monumento ai caduti di Lecce, l'ha eletta a propria dimora. E così, dopo 30 anni, i responsabili dell'associazione, stanchi di promesse e parole, hanno deciso di abbandonare la struttura, riconsegnando le chiavi nelle mani del sindaco. La sede Lilt di Lecce di Piazza Italia è occupata quotidianamente da un nutrito gruppo di clochard, dopo essere stata letteralmente invasa, deturpata e depredata di ogni bene e suppellettile negli ultimi mesi, dicono il responsabile scientifico, l'oncologo Giuseppe Serravezza, ed il presidente Antonio Micaglio, in una lettera inviata al sindaco di Lecce, Saldemini, e per conoscenza al prefetto Luca Rotondi, alle forze dell'ordine, alla AS di Lecce e alla sovrintendenza. E aggiungono, nonostante le ripetute denunce, gli appelli e le nostre continue richieste di intervento da parte delle istituzioni preposte, anche in considerazione delle pesanti minacce subite e dell'evidente stato di degrado urbano che interessa tutta l'area attorno al monumento ai caduti, prendiamo atto, con profondo rammarico, di non poter più proseguire la nostra attività all'interno dei locali. Una situazione insostenibile denunciata più e più volte. Appena tre giorni addietro la sede Lilt era stata bonificata, pronta ad essere nuovamente attrezzata da parte dei volontari e tornare finalmente ad essere operativa. Invece nulla, nonostante le tantissime rassicurazioni, ultime quelle ricevute nel corso dell'incontro in prefettura della scorsa settimana, in cui era presente al tavolo con il prefetto, anche il sindaco, Saldemini. Così, dopo 30 anni di attività al servizio dei cittadini bisognosi di cure, cala il sipario e da oggi, in Piazza Italia, sulla sede della Lilt, amaramente svento la bandiera bianca.